Uno dei prodotti più interessanti qui al Photoshop 2011 è sicuramente la Olympus XZ1. Si tratta di una compatta con ottica zoom ridotto ma ha elevata apertura, è un f1.8 alla focale minima grandangolare. Ha un sensore da 10 megapixel quindi è stato scelto di non esagerare con i megapixel stipati sul sensore e appunto è una di quelle compatte che punta molto sulla qualità. Come vediamo abbiamo una ghiera di controllo sul barilotto dell'obiettivo che richiama quello della fotografia a cui eravamo abituati prima del digitale. Ha molti controlli manuali e quindi mette al centro il fotografo e la sua creatività. Ha un corpo in metallo che trasmette una sensazione di solidità, è dotata di flash integrato a scomparsa e naturalmente offre anche il supporto video in formato HD.